Il Nobel per la medicina 2014 è stato assegnato a John O'Keefe e ai coniugi May Britt ed Edvard Moser per la scoperta di una sorta di GPS del cervello che ci permette di orientarci nello spazio dimostrando così una base cellulare per le funzioni cognitive più elevate. L'annuncio è stato dato a Stoccolma dal Karolinska Institute svedese. Gli scienziati si dividono in due parti, una per O'Keefe e l'altra per la coppia norvegese. Insieme sin dai tempi dell'università ha un riconoscimento pari a 8 milioni di corone svedesi, oltre 880 mila euro. I coniugi Moser sono la quinta coppia sposata a vincere un Nobel.